Venerdì 23 novembre 2020 Buongiorno, ben trovati, appuntamento consueto come ogni mattina con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che si apre come di consueto, come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il centro, l'edizione di Pescara, ecco il titolo a tutta pagina, assenteismo, gli indagati negano, Pescara i dipendenti di provincia e ambiente, l'orologio marca tempo, non funziona. In alto si parla di politica, l'Abruzzo verso il voto, la cena da Berlusconi, dei consiglieri e degli amministratori di Forza Italia, divide il centrodestra, Pagano sfratta Fratelli d'Italia. Ne parleremo dopo vedendo anche un servizio con le dichiarazioni, proprio per quanto riguarda Fratelli d'Italia di Giandonato Morra, che vedete nella foto proprio accanto al coordinatore regionale di Forza Italia, Pagano. E poi la sanità, lo sciopero dei medici, oggi blocca la sanità, no ai tagli. E poi la colletta alimentare per aiutare 29 mila poveri, domani la ventiduesima edizione nella nostra regione in Molise, il Banco Alimentare Abruzzo Molise, che ieri ha presentato questa importante iniziativa. Andiamo a centropagina, lo sport del grosso, non mi fermo, voglio tornare in Serie A, parla il difensore del Pescara alla vigilia della gara di domenica allo stadio Adriatico. Lo ricordiamo alle 15 contro l'Ascoli, vediamo le cronache, ancora Pescara, certificati falsi ai piloti, medico denunciato. E poi ancora Pescara, grosso ramo, cade in strada, torna l'allarme, questa volta fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Letto Manopello, Vigili del Fuoco, apre un nuovo distaccamento e poi via lo shopping con i super sconti da Pescara a Montesilvano, vendite sotto costo per anticipare gli acquisti di Natale. Siamo alla prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, uccise musicista appena dimezzata, l'omicidio di Marco a Chieti Scalo, 16 anni in appello a Cipressi, cadono le aggravanti. Poi vedete Dolfo e Samantha, l'amore nato sotto la rete del volley, ortona due cuori nell'impavida, a suon di schiacciate a Chieti, la farmacia resta in vendita, scontro in aula, in consiglio. E poi Lanciano, il comune cerca falegnami ed elettricisti, Vasto e Lanciano, tribunali addio, ecco gli uffici di prossimità. Il lavoro, l'occupazione, appello per la bolla, intervenga Di Maio, San Martino sulla Marruccina, incontro sindacati parlamentari e da Roma arriva Sorial. Siamo alla prima pagina di Teramo, sempre dal centro, false cittadinanze in quattro nei guai, il GIP sospende gli impiegati di Stato civile a Roseto, Pineto, Notaresco e Castellalto. E poi l'esperimento alla villa comunale dell'Aquila, alberi da potare, l'assessore prova l'arrampicata, Teramo, eventi in centro, Edeors, sconti e nuove regole. Giulianova, le vongolare seminano, molluschi, allargo, alba adriatica, cura del verde, il comune toglie i soldi ai vigili. Poi torniamo sulla vicenda dell'arresto di un cittadino straniero a Milano, ma che viveva all'Aquila. Isis, ci sono altri cinque indagati, sviluppi nell'inchiesta sul terrorista egiziano che ha vissuto, pardon, non in provincia dell'Aquila, ma in provincia di Teramo. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, cocaina, mala albanese nel mirino. L'Aquila oggi l'interrogatorio del parrucchiere, l'avvocato, spaccio da escludere. E poi gusto in festa, l'insegna della dieta mediterranea, rinnovato il gemellaggio tra Aielli e Pollica. Sulmona e Avezzano, tribunali minori e più vicina, la soppressione, Avezzano arrestato Rom, condannato 26 volte. Sulmona, menù stellato per mille alunni, della mensa. E poi siamo a Capistrello, Ciciotti, io onesto, la mia vita rovinata. Il sindaco nega le accuse dal GIP, ma il prefetto lo sospende. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Berlusconi boccia la terna, regioni vertici abruzzesi convincono Silvio. Fratelli d'Italia ci dia altri nomi per il candidato. Gli alleati si sta giocando a perdere, giusta la scelta già fatta dal nostro partito. E poi terremoto, la commissione della Camera in visita all'Aquila. E poi Pescara parlano, rispondono al magistrato, gli indagati di provincia ambiente. Non siamo assenteisti, hanno negato ogni episodio di assenteismo i dipendenti di ambiente interrogati ieri mattina in procura a Pescara. E poi l'avvertenza, i medici scioperano per il nuovo contratto. E poi Scialabi reclutava terroristi in contatto con i vertici ISIS. Trovata una chat su Telegram con cui indottrinava i seguaci. Vediamo in basso poi Banco Alimentare, via alla spesa per gli altri. Domani l'iniziativa in tanti punti vendita di Abruzzo e Molise. Andiamo nella parte alta della pagina, trasporti, bus per Roma, ecco il progetto per potenziare Porta Nuova. E poi sale e partenze, business, l'aeroporto cambia volto. Poi vedremo anche un servizio in questo caso. Il calcio, Serie B Pescara, tre bomber per affondare Lascoli. Pilon pensa di schiarare Marras, Mancuso e Monachello. Ma nelle ultime ore c'è apprezzione invece per le condizioni di Campagnaro, che ieri ha terminato anzitempo l'allenamento e che dunque è in dubbio per la gara di domenica. Siamo al quotidiano La Città, sospesi 4 ufficiale dell'Anagrafe, inchiesta sulle cittadinanze facili agli oriundi brasiliani e agli sgoccioli. Ecco le decisioni del giudice Teramo Duomo Tinto di Rosso contro la violenza sulle donne. E poi grandi manovre alle scuole superiori, Einstein, Alcomi e Pascal Comiforti, al Polo Tecnico. E poi l'ultima Ferrari del Mondiale sarà Made in Teramo. E poi polemiche e suspeca, la sinistra dà il benvenuto al segretario PD, un titolo infine che riguarda il calcio. Il Teramo, Tegola Cairi, il difensore Porta Fortuna sarà fuori per il doppio turno in casa a causa di un infortunio. Siamo all'edicola nazionale, partiamo come di consueto dal Corriere della Sera. L'allarme su spread è mutui, vedete il titolo di apertura, i timori del ministro Tria. Conte la manovra si può rimodulare, Di Maio più tagli. Poi andiamo a centropagina, l'intervista con il ministro degli esteri iraniano, Mohamed Zarif. Iran e Stati Uniti, nessun negoziato, Trump non è affidabile. Poi la cronaca che ci porta in provincia di Mantova incendia la casa dell'ex moglie e uccide il figlio. Siamo a Repubblica, manovra, Salvini frena Conte, Di Maio basta guerra all'Unione Europea. E poi la bellezza di impegnarsi che selverà il mondo, volontari come Silvia Romano, la giovane che è stata rapita in Africa. Andiamo a vedere anche il prossimo giornale che è il quotidiano libero, Di Maio in caduta libera. Questo è il titolo di apertura. Gli italiani lo hanno già sfiduciato. Sondaggio, chi conta di più nel governo, per il 63% il leader della Lega Salvini, con un più 3% rispetto alla scorsa settimana. Mentre Di Maio, Gigino Di Maio, scivola al 10%, meno 3%, peggio di lui, solo Tria 1%. E poi vedete Salvini, anche questo titolo un po' simpatico. Salvini si converte al gattolicesimo, spopola lo spirito animalista di Matteo. Siamo al fatto quotidiano, ecco chi paga i partiti, conti in tasca, sigarette elettroniche, Lega, cacciatori, fratelli d'Italia, famiglia, guidi, PD, scrive il quotidiano. Il fatto, andiamo in alto, coni le porte girevoli tra lo sport e la politica, ma che autonomia, eterno legame da Andreotti a Malagò. E poi i due sindaci condonisti di Ischia con Minniti. Siamo al messaggero nazionale, l'Italia chiede tempi più lunghi all'Unione Europea, manovra l'apertura di Conte. E poi Roma in Casamonica contro i vigili, tre fermi, minaccia la raggi, scorta rinforzata. E poi parla il Ministro Buongiorno, Ministro della Funzione pubblica, statali, l'inefficienza punita come i piccoli reati. Siamo al mattino di Napoli, Conte prende tempo con l'Unione Europea, rimoduliamo la manovra, dice il Presidente del Consiglio. E poi un titolo che riguarda il calcio, che deve fare i conti ancora oggi con manifestazioni sciocche da parte di molti tifosi. Al prossimo coro razzista chiedo lo stop della partita, la battaglia di Ancelotti, il tecnico del Napoli a Bergamo, pronto al gesto estremo. E poi l'appello, i nostri tifosi non insultino più gli avversari. La verità in TV, c'è l'assalto dei tromboni venuti dall'estero a insultarci, autolesionismo catodico, scrive il quotidiano. La verità e poi non firmate a centro pagina, vedete il patto con il diavolo ONU sui migranti. Il sole 24 ore, statali e quota 100, prestito ponte per i TFR, di chi va in pensione a costo zero potrebbe essere chiesto alle banche. L'anticipo della liquidazione, il rimborso degli interessi per il periodo di copertura sarà a carico dello Stato. E poi sulla manovra del governo, contesi ai ritocchi, se utili a favorire la crescita. Siamo al tempo, morto con dono se ne fa un altro, via dichiarazione integrativa e transazione a saldo e stralcio. Ma l'esecutivo apre a una nuova sanatoria sui contributi IMSS. Il manifesto allarme rosso sul clima, agire subito, inquinamento record. L'ONU si riducono le emissioni o conseguenze irreversibili. E poi vedete questo titolo, come sempre un po' ad effetto del manifesto, i due di coppe. Conte alla Camera chiede all'Unione Europea più tempo, il ministro Tria ammette che lo spread influirà sui mutui. La stampa di Torino, gli italiani non si fidano dei BTP, crolla la domanda dei risparmiatori. Il tesoro colloca 2 miliardi e 2 di titoli, ma ne cercava almeno 7.7. Vedete poi l'ultima stretta di Putin, la censura ferma i libri dall'estero. Il secolo allarme mutui, secondo il ministro Tria, nell'interesse del Paese e dell'Unione Europea, sdrammatizzare i toni del dibattito interno ed esterno per garantire la prosecuzione del dialogo. Il quotidiano avvenire, oppressi nel silenzio, aiuto la Chiesa che soffre, fotografa la realtà dei credenti, emergenza in Nord Corea, Arabia, Nigeria, Afghanistan ed Eritrea. E poi l'appello del Papa in questi giorni di Black Friday, l'uomo non sia un mero consumatore. Poi a centro pagina, vedete sì, all'anticorruzione, sulla manovra si balla. Lasciamo dunque l'avvenire, l'edicola nazionale, siamo nuovamente ai fatti d'Abruzzo, partiamo, ripartiamo, riprendiamo dal centro, pagina 2, vertenze nella nostra regione, questa volta tocca ai camici bianchi, parliamo di sanità, lo sciopero dei medici blocca la sanità, oggi si tina all'Aquila e a Pescara per dire basta i tagli, negli ospedali garantiti, solo urgenze e pronto soccorso. E poi la reazione alla paura, case assicurate contro il sisma in Abruzzo, 68% di polizze in più. E poi banche, crolla il numero delle rapine, meno 66,7%, la statistica dell'ABI, solo due colpi messi a segno in Abruzzo nei primi nove mesi del 2018. e poi nasce il primo laboratorio fitopatologico del centro-sud, precisamente a Cepagatti. Abruzzo al voto, la cena romana spacca il centro-destra, dopo la serata con Berlusconi parte l'attacco di Pagano, Martino e gli altri ha i tre nomi indicati da Giorgia Meloni. Ma, leggiamo questo sommario, Sigismondi e Morra, esponenti di Fratelli d'Italia, difendono la scelta proprio del partito della Meloni. Il primo parla di gioco allo sfascio e il secondo prevede per il 10 febbraio il sorpasso di Fratelli d'Italia sugli azzurri. Più avanti vedremo un servizio, la riduzione dei vitalizi intanto arriva in Consiglio, la legge del Presidente Di Pangrazio prevede solo un contributo di solidarietà per gli ex politici. Saltiamo le pagine di cronaca nazionale che abbiamo già visto con le prime pagine dei quotidiani e siamo al giorno della solidarietà, la colletta alimentare per aiutare 29 mila poveri, domani 4 mila volontari all'opera in 350 punti vendita in tutta la Regione, servono cibo per bambini, olio, sughi, pelati, tonno, biscotti, riso e legumi. La colletta alimentare è stata presentata ieri a Pescara, presso la sede del Banco Alimentare d'Abruzzo e Molise. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio di questa mattina. Torna la colletta del Banco Alimentare, Regione Abruzzo, al fianco dei volontari che sabato saranno a lavoro in tanti punti vendita della nostra Regione. È un gesto che possiamo fare tutti e che davvero costa poco tempo a tutti perché la spesa la facciamo e quindi davvero è un gesto semplice, facile, che produce solo tanto amore e effetti concreti. La Regione Abruzzo dà un cospicuo fondo per il sostegno alimentare ogni anno ma il fondo dovrebbe essere ogni anno più aumentato, come dire, più cospicuo proprio perché le povertà nel nostro Paese e nella nostra Regione non tendono a diminuire, anzi aumentano. Oltre alla colletta alimentare c'è anche questa iniziativa. Vediamo questa scatola in mano, un'iniziativa fortemente voluta dal suo assessorato. Sì, devo dire, spinta però dagli amici del Banco Alimentare abbiamo approvato una legge contro lo spreco alimentare introducendo una serie di novità e poi grazie agli effetti di questa legge siamo riusciti a consegnare centinaia di box a tutti i ristoratori in modo da consentire ai ristoratori di poter dare ai clienti che non consumavano il pasto nel ristorante questo box per poterlo riportare a casa. Torna la colletta alimentare del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise, un'iniziativa che ormai dura da tanti anni ma i numeri dicono che ogni anno aumentano sempre i cittadini che hanno bisogno del vostro aiuto. Purtroppo i numeri sulla povertà assoluta non sono diminuiti ma sono cresciuti. Secondo i dati Istat nel 2017 è pari a oltre il 10% della popolazione italiana, quindi oltre 5 milioni di famiglie purtroppo che vivono in questo disagio forte, quotidiano. Con il gesto della colletta si può fare un qualcosa di utile e soprattutto si può condividere un pezzetto di sofferenza anche spesso di delusione che tante persone hanno nella loro quotidianità perché hanno seri problemi economici ma non solo economici, di solitudine e quant'altro. Noi attraverso la giornata della colletta riproponiamo questa possibilità che fare del bene è facile e soprattutto è la condivisione con chi non sta nelle stesse nostre condizioni. Cambiamo argomento, restiamo sempre sulla pagina di Cronaca regionale del centro. Da Pescara a Vasto e Celano da lunedì a sabato il FAI farà scoprire quattro gioielli con le visite guidate. E poi parliamo anche di Cronaca sindacale, oggi l'elezione del nuovo segretario, il favorito è Carmine Ranieri che dovrebbe succedere a Del Fattore che ha esaurito il suo mandato. Andiamo ancora avanti, siamo alla Cronaca di Pescara, i furbetti del cartellino, nessun assenteismo, noi non siamo dipendenti pubblici, interrogati dal giudice, sette dipendenti di provincia e ambiente, irregolarità nelle timbrature, l'apparecchio funziona male. E poi parliamo di trasporti, tu a San Gritano i bus per Roma partiranno da Pescara a Porta Nuova l'8 dicembre. E poi andiamo ancora avanti, lo shopping prima del Natale, corsa agli acquisti nei negozi della città con i super sconti. E poi cittadini e commercianti insieme per il rilancio di Porta Nuova. Proseguiamo, la Cronaca ci fa restare a Pescara, crolla grosso ramo, paura ieri sera in Piazza Grue, fortunatamente nessun danno a persone o cose, il vice sindaco Blasioli. Andiamo avanti con i controlli. E poi il PRG della Pineta va in consiglio, braccio di ferro sul piano di assetto naturalistico. E poi Antonelli di Forza Italia dice subito e chiede subito un vertice con Agronomi e ASL. Proseguiamo, falsi certificati ai piloti, medico nei guai, denunciato da Inas, privo di titoli, attestato che erano stati eseguiti esami per il via libera alle gare in cambio di 650 euro. Parliamo di vigili del fuoco, inadeguata la caserma di Viale Pindaro, per quanto concerne la nuova sede del corpo il caso finisce. Al Ministero, aeroporto, altri due gate, una nuova sala partenze saranno operative entro un paio di settimane dopo il via libera dell'Enac. Pronta anche la business room riservata agli affari nell'area del terminal. Se ne è parlato ieri mattina al termine dell'Assemblea dei Soci della Saga, numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo e soprattutto lavori che ormai sono in fase di ultimazione. Ne hanno parlato il Presidente della Saga e l'assessore regionale Paolucci. Possiamo andare a vedere dunque il prossimo servizio. L'Assemblea dei Soci dell'aeroporto d'Abruzzo ha rappresentato anche l'occasione per fare il punto sui lavori che stanno per terminare nello scalo abruzzese. Lei diceva prima in conferenza stampa, assessore, consegneremo al nuovo governo regionale un aeroporto tutto nuovo e più funzionale. Sì, siamo molto soddisfatti. Abbiamo raccolto nel 2014 la società aeroportuale, la Saga e ovviamente l'infrastruttura in condizioni molto difficili, critiche dal punto di vista finanziario e senza investimenti da portare avanti. Abbiamo rilanciato certamente, oggi se ne vedono i risultati e i frutti, questa importante infrastruttura mettendoci delle risorse ma soprattutto rendendola più competitiva a tal punto che l'accompagnamento della risorsa pubblica nel futuro sarà sempre molto meno necessario e soprattutto dovrà caratterizzarsi per la qualità degli investimenti che metterà in campo. Presidente, prima scherzando diceva ora è davvero un aeroporto questo, siamo nella parte nuova dell'aeroporto d'Abruzzo, un aeroporto che a gennaio avrà un volto completamente diverso. Sì, siamo al raddoppio dei gates, questi sono i due gates nuovi, il mese scorso abbiamo inaugurato gli arrivi nuovi, tutto acciaio, vetro, nuovissimi pavimenti, servizi stupendi, poi farò vedere i bagni, qui a sinistra avremo le nuove partenze, il centro commerciale entro il 10 gennaio decollerà all'80-90% dei protagonisti, insomma siamo un aeroporto internazionale con la I maiuscola anche dal punto di vista delle strutture, i passeggeri aumentano, c'è da essere contenti. Abbiamo lavorato molto col personale della Saga che ringrazio tutto, col CDA che ringrazio tutto, con la regione che con noi si è comportata benissimo e quindi è un successo dell'Abruzzo, è un successo dei cittadini, non è un successo nostro. Questo è un gioiello di famiglia, io spero che la regione, i cittadini abruzzesi se lo sappiano difendere, se lo sappiano curare come stiamo cercando di fare anche noi. Parliamo anche un po' di numeri, come va per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo dal punto di vista proprio economico? Direi bene perché nonostante la regione abbia diminuito moltissimo in questi anni il contributo che è passato da 3-4 milioni l'anno a 540 mila ordinari, penso quest'anno euro, quindi un sesto, un settimo. Insieme abbiamo fatto oggi nel piano industriale, che abbiamo approvato all'unanimità con la regione, questa scelta del cosiddetto SIEG, cioè di un condominio per cui la regione ci aiuta a tenere nell'aeroporto tutte le forze dell'ordine con i loro elicotteri, pensate che qui abbiamo finanza, carabinieri, vigili del fuoco, polizia, capitanere di porto, ex forestale e quant'altro per un totale di mezzi straordinari, noi abbiamo 8, 9, 10 elicotteri, un aereo della capitaneria che vola a bassa quota con impianti aerofotogrammetrici, che è una ricchezza enorme, un polo della sicurezza che tutto insieme, coordinato, non ha uguali e paragoni in tutta Italia negli aeroporti. Siamo a pagina 23, sempre dalle colonne del centro, parliamo di scuola e lavori all'elementare, scuola chiusa, 150 bambini in trasferta fino a maggio, San Silvestro, l'apertura slitta di sei mesi, servono interventi sull'impianto elettrico, seccia consigliere comunale di Forza Italia, alunni beffati, dice, dovranno rimanere nell'istituto di via Rubicone. Medici veterinari all'arme, il servizio va potenziato, 8 dirigenti medici non sostituiti negli ultimi anni, l'ultimo concorso è del 1992, poi politica, Dorazio aderisce a Fratelli d'Italia e corre per la regione, più avanti vedremo il servizio e poi l'Accademia della Cucina premia il pasticcere di Epescara, Fabrizio Camplone. Andiamo avanti, siamo a Montesilvano, sconti anticipati in città e la nostra occasione, Confesercenti e Montesilvano nel cuore, promuovono il Black Friday in 31 negozi. E poi cronaca politica, commissione lavori pubblici, D'Ignazio si dimette da vicepresidente e dice Orsini va sostituito in basso, promossa la mensa della scuola di via Adda, ispezione a sorpresa da parte della commissione consigliare alla scuola dell'infanzia generale Dezio. Proseguiamo, la solo porta la musica alla città dei ragazzi, ancora Montesilvano, continua l'attività di solidarietà della scuola montesilvanese gemellata con Zocca. E poi siamo a Spoltore, al convento, il concerto Uncef per Samiglia e poi a Città Sant'Angelo, fondi agevolati a giovani e imprese. Oggi l'incontro. Andiamo ancora avanti, il dibattito a Francavilla, ci spostiamo dunque nella cittadina in provincia di Chieti, negozianti e residenti uniti, riaprite, largo, vergani, ma il sindaco non cambia fino a Natale, avanti così. Ancora Francavilla, Fondovalle Alento a 50 km orari, l'ANAS abbassa il limite di velocità nel tratto che collega Chieti a Francavilla. E una notizia di sport a margine, poi di sport parleremo più avanti. Sì, il Francavilla giocherà in campionato domenica regolarmente alle 14.30. La gara casalinga con la San Giustese, è stato negato l'anticipo alla formazione giallorossa che per via della concomitanza della gara Pescarascoli aveva chiesto di giocare. Al sabato siamo a San Buceto, in Piazza San Rocco. Torna il villaggio di Babbo Natale. Proseguiamo a Letto Manoppello, un distaccamento dei vigili del fuoco del 1 dicembre. I 23 volontari avranno una sede autonoma. Il comandante provinciale Palano contrasteranno gli incendi boschivi. E poi bussi sul Tirino, il generale Prizzi e l'Abruzzo nella guerra. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo nell'area Vestina. Emergenza viabilità nelle contrade di Loreto, interrogazione del gruppo in comune. E poi in basso, penne, auto d'epoca, domenica torna la corsa, coppa di Natale. Popoli, il poeta cimiteriale Mauro Petracca al pub Riut 666. Chieti, l'omicidio a Chietiscalo, condanna dimezzata per l'assassino, il delitto del musicista Fausto Di Marco. Cancellate le aggravanti per l'aggressione. La pena per Cipressi scende a 16 anni. Timbre il cartellino, ma parte per la vacanza dipendente dell'Università d'Annunzio. Finisce a processo per truffa, incastrato da un esposto anonimo. Siamo ancora in provincia di Chieti. L'avvertenza della bolla, ultimo appello. Ora intervenga Di Maio. I sindacati incontrano i parlamentari. Da Roma arriva anche il grillino. Soriar, San Salvo, chiuso il centro migranti. Non è idoneo. E poi Rapino si aggrava l'ex assicuratore. Caccia l'auto nera che ha provocato lo schianto con sorpasso. Si cercano testimoni del frontale dell'incidente dell'altro giorno. E poi Vasto va dal medico. Coppia derubata. E poi San Salvo, Pilkington. Cerimoni e ricordi per i cento anni della casa madre. Bucchianico abbattuti. Sette cinghiali. Andiamo avanti. Siamo a Teramo. Si parla di terrorismo. Il blitz della polizia con il lupo solitario dell'Isis. Indagati anche altri cinque stranieri. L'egiziano arrestato a Milano dopo aver vissuto a Colonnella. Sarà interrogato lunedì dal GIP dell'Aquila. Il connazionale espulso che lavorava in vibrata. Fa ricorso al TAR via gli accertamenti su computer e cellulari. E poi l'inchiesta acqua ai vertici del Ruzzo. Si presentano davanti al PM. E poi in basso. Droga a chili sotto accusa in 23. Giuliano Voltre ai 10 manette. Ci sono un irreperibile e 12 denunciati. Cittadinanze facili svolta nell'inchiesta. Siamo a Teramo. Sospesi quattro ufficiali di Stato civile. Indagati per abuso e falso. Lavorano nei comuni di Roseto, Pineto, Notaresco e Castellalto. Castellalto no alla misura per otto vigili. E poi la cronaca. Ferisce un uomo in strada con tre coltellate arrestato a Termoli. Un dipendente della Team. Ambiente. Vongole seminate, un miglio dalla costa. Giulianova Molluschi presi e arriva e portata a largo. Con 55 barche per creare nuove zone di pesca. Andiamo in basso e siamo in Val Vibrata. Il comune di Alba Adriatica senza soldi per il verde usa i fondi dei vigili. Trovati 35 mila euro. Siamo a Silvi. Parte il confronto sulla pista ciclabile. Si scatena il dibattito sui social. L'immedito ha le diverse ipotesi di tracciato. Atri. Cisle e Will no al trasferimento dei bus a Fosso della Stufa. E poi ancora Atri. Italia Nostra contro la palestra sotterranea. Tornando invece a Silvi. Via al progetto di assistenza alle famiglie. Il piano finanziato dalla Regione prevede interventi a favore di nuclei in gravi difficoltà. Siamo all'Aquila. L'inchiesta di Capistrello. Sono un onesto. La mia vita è stata rovinata. Ciciotti, il sindaco di Capistrello, per tre ore dal GIP. Anche l'ex consigliere Di Giacomo evidenzia le contraddizioni del geometra che li accusa. Andiamo in basso. Intanto la prefettura lo sospende dall'incarico. La guida del comune passa alla vice Gertrude Scatena per tutto il tempo della misura cautelare. Siamo all'Aquila. Droga all'Aquila. Cocaina nel mirino. La malavita alvanese. L'avvocato del parrucchiere in cella. Castellani non è uno spacciatore ma dovrà spiegare il possesso dello stupefacente. E poi il furto a Palazzo Moscardelli a Ofena. Ritrovato quadro di scuola raffailita. Rubato cinque anni fa. Avezzano. Dunque torniamo nella Marsica. Arrestato in Rom. Condannato ventisei volte. Avezzano. Orlando Morelli dovrà scontare nel carcere San Nicola la pena di 14 anni e 11 mesi. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo fermarci a questo punto per qualche istante. Andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Andremo a vedere le pagine interne dei quotidiani. il messaggero e la città. E poi nell'ultima parte parleremo di sport e andremo ad ascoltare anche le dichiarazioni dell'attaccante del Pescara Gaetano Monachello. Il grande ex di Pescara Ascoli. Di nuovo in studio la seconda parte di mattino 6. Che apriamo con le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. La politica in primo piano. L'Abruzzo alle urne si avvicina a grandi passi l'appuntamento del 10 febbraio. Ma nel centro-destra c'è ancora un impasse con il candidato presidente che deve essere ancora designato. Berlusconi boccia la terna di Fratelli d'Italia. Ora altri nomi. La cena a Palazzo Grazioli con gli azzurri abruzzesi. I nomi dei partner. Non danno, hanno detto gli esponenti di Forza Italia, garanzia di vittoria. Ma Fratelli d'Italia non ci sta. Morra, l'amministratore Terramano, ma facente parte anche del Consiglio nazionale del partito. Ieri ha tuonato. Qualcuno gioca a perdere. Basta Vetti. Il candidato resta a noi. Queste le parole di Gian Donato Morra. Rilasciate proprio i nostri microfoni. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina a Pescara per ufficializzare l'adesione a Fratelli d'Italia di Benigno Dorazio. Allora andiamo a vedere il servizio. Benigno Dorazio aderisce ufficialmente a Fratelli d'Italia. Oggi l'annuncio in questa conferenza stampa in provincia. Come mai questa scelta? Diciamo che ho risposto a numerosi solleciti sia di Gian Donato Morra che di Etel Sigismondi che mi hanno chiesto di dargli una mano in questa battaglia che si presenta molto difficile ma io credo vincente che riguarda la regione. Il mio contributo sarà innanzitutto in materia ambientale di sviluppo sostenibile e di mettere in campo le competenze che posso mettere per Fratelli d'Italia e poi vedremo anche il discorso di una candidatura che sarà funzionale o meno, se sarà funzionale o meno, a questo progetto. Un po' anticipato la mia domanda, probabilmente verrà candidato per le regionali? Diciamo che c'è un'ampia richiesta in questo senso che proviene dal territorio, che proviene dai vertici eccetera. Io però ho detto sempre e dico sempre che le candidature sono funzionali a un progetto e non il contrario, quindi bisogna vedere qual è la mia situazione, qual è il mio miglior contributo che posso dare. Se questa è la candidatura lo faremo molto volentieri. Quando si conoscerà il nome del candidato presidente per il centro-destra in Abruzzo? Noi speriamo quanto prima. D'altra parte Fratelli d'Italia ha esaurito da tempo il suo compito. Ci è stata chiesta una terna di nomi, è stata fornita da ben più di un mese e il tavolo nazionale è in via di convocazione e stanno per convocarsi. Magari di questo ritardo qualcuno ne ha fatto una polemica abruzzese. Mi permetto soltanto di ricordare da tanti distratti che fanno politica sotto il bar a casa che probabilmente ci sono anche delle problematiche nazionali che molti dimenticano facilmente. C'è una Lega che ha il governo, contrariamente a Fratelli d'Italia, Forza Italia, ci sono state delle grandi tensioni fra Forza Italia e la Lega. Il tavolo nazionale si riunirà fra poco, l'ufficializzazione verrà in questi giorni e finalmente chiuderemo questa querella anche perché qualche alleato credo che stia giocando più a 3-7 a perdere e non a mettere insieme un programma, un candidato condiviso e a fare quello che l'Abruzzo di centrodestra vuole, ritornare al governo di questa regione. Ma il nome uscirà dalla terna perché lei sa bene che questi nomi non convincono del tutto alcuni alleati di centrodestra. Su questa non convinzione credo che la non convinzione non parta su un giudizio sulle persone sulla terna ma sulle ambizioni personali, qualcuna legittima, qualcuna sovraordinata o sovrastimata perché credo che come sa, certe volte nelle riunioni anche di condominio qualcuno si alza e dice queste sono miserie umane, punta il dito, spesso chi è abituato a puntare il dito se lo trova puntato. I nomi della terna sono tutte e tre delle persone, mi dispiace che ci sto pure io in mezzo, ma delle persone che hanno una loro storia e state certe anche un loro futuro politico. però certe volte dire non vanno bene senza dire chi sarebbe o quale criterio sarebbe quello giusto mi sembra una comunicazione un po' monca. Benvenga il tavolo nazionale, chiudiamo questa partita e stendiamo un velo pietoso. Parole dure quelle di Giandonato Morra. Noi siamo alla cronaca di Pescara, i furbetti non convincono il giudice, vedete il titolo al termine degli interrogatori, confermata la sospensione dal servizio per i sette dipendenti di provincia ambiente, giustificazioni varie per la doppia timbratura del cartellino, l'assenza in orario di servizio e l'uso improprio delle auto. E poi parliamo della spesa solidale, domani la colletta per i 30.000 poveri d'Abruzzo, abbiamo visto prima il servizio. Caserma, i vigili del fuoco fanno da soli via libera del Ministero un bando per la ricerca di un'area utile, trattative a vuoto con Comune, Regione e altre istituzioni. L'annuncio del comandante Vincenzo Palano, dopo anni di attese e troppi incontri senza esito, ora cambiamo strada. Sorpresa, zero rapine in banca a Pescara. Hanno fortunato i numeri che riguardano proprio le rapine nelle banche, vedono un crollo dei colpi, soprattutto nel Pescarese. Sala partenza e business, l'aeroporto cambia a volto, abbiamo visto anche in questo caso prima il servizio, busse, le spine del doppio terminal, il passaggio da Porta Nuova a Centrale, moltiplica il flusso di pullman in centro a Pescara. E poi parliamo di menze e controlli della Commissione Comunale, la Cirfood promossa dalle mamme. E poi San Silvestro, la scuola costa 200 mila euro, in più l'Aquila, cocaina e i quattro foglietti che inguaiano il parrucchiere sono quelli trovati a Castellani, con tanto di cifre e nomi di persona. Dalla squadra mobile il legale difensore Giancarli potrebbe essere stato messo a giro. È incensurato, ha detto il legale. Ricostruzione, oggi la visita dei parlamentari all'Aquila. E poi l'incontro Minniti dai nazionalpopulisti, strategia dell'attenzione, ha detto uno dei candidati alla segreteria nazionale del PD. Ancora l'Aquila, il piano mobilità urbana. Sarà partecipato l'assessore Carla Mannetti, dice, discusso e pronto entro la fine della prossima estate, con l'utilizzo dei social e di incontri fondamentali, gli aspetti ambientali, coinvolte tutte le associazioni di categoria, i cittadini e anche l'università. Andiamo in basso, conservatorio, gli iscritti aumentano, sono ora oltre 800. E poi in basso l'intervista, l'ospite d'onore del premio Bonanni, il dolore della morte, e una lezione. Caso Capistrello, via agli interrogatori, il sindaco Franco Ciciotti, adesso agli arresti domiciliari, sotto Torchio, per quasi quattro ore, ha rigettato, scusate, tutte le accuse. L'Avvocato Milo ha presentato anche in stanza di libertà, ogni suo atto, ha detto illegale, è stato fatto solo per il bene del Paese. Andiamo di fianco, sempre nella pagina della Marsi, Catagliacozzo, suore della carità, festa per i due secoli, e poi sul Monaco, Gesa, lettera dei precari, rischiamo di andare a casa. E poi il governo, dai tribunali e gli uffici di prossimità, si parla della chiusura di alcuni tribunali minori, anche in Abruzzo, come quelli di Sulmona, Avezzano, Vasto Lanciano, Pesca Seroli, direttore del parco, scelta, la Terna. E poi Avezzano, ancora estorsione, truffe e rapina, arrestato quarantenne. Avezzano, il sindaco, parla di politica e della cena con Berlusconi, il numero uno di Forza Italia per il sindaco di Avezzano. È stata utile proprio la cena in chiave politica che si è tenuta con Silvio Berlusconi. Siamo a Chieti, la vendita della farmacia torna in Consiglio Comunale, la nuova delibera sarà sottoposta oggi al vaglio della Commissione Bilancio. E poi la Lucia di Lammermor, questa sera al Teatro Marruccino di Chieti. La cronaca ci porta poi in basso, a fondo pagina, la cronaca giudiziaria, musicista ucciso, pena dimezzata a Cipressi. E poi la politica con i candidati regionali della provincia di Chieti, per la Lega, Lega che schiera due sindaci, debutta la Bucci, Annalisa Bucci. Andiamo avanti a vedere la prossima pagina, quella della provincia di Chieti, rete antiviolenza, Lanciano, Capofila. Alle 11 sarà sottoscritto il protocollo con 11 comuni dell'area frentana. Bendotti, una grande lezione civica. E poi San Salvo, ferita nello scontro con un cinghiale. E poi ancora Lanciano, alloggio revocato, il giudice dà ragione al comune. San Salvo, festa alla Pilkington pensando al futuro. A Vasto si è parlato in un incontro della Unicità della Vita, che è una risorsa. E poi Ortona, il PRG, rimborsi. A chi ne avrà diritto? Ex aree edificabili, il PD anima lo scontro. Il sindaco garantisce trasparenza. E poi Vamos, vasto portale per la mobilità. Città Smart, l'assessore Paola Cianci. Ci daremo informazioni su parcheggi ZTL e piste ciclabili. Siamo a Teramo, la pagina di Teramo. A Scialabi reclutava terroristi per conto dei vertici dell'ISIS. Il giovane operava su gruppi chiusi, intercettati sulla piattaforma Telegram. L'odio totale verso la civiltà occidentale. Nelle informazioni in entrata ed uscita. Siamo a parlare della Ruzzoreti, dimissioni di Forlini, bagarre, successione. E poi donne nel mirino, violenza, farmacie come front office. E poi parla la sorella di Tommaso Caralla che dice non credo al suicidio. Tornando alla vicenda del Ruzzo, il presidente di Ruzzoreti la prossima settimana sarà in procura. Siamo alla pagina dell'area Teramana Costiera. Cittadinanze facili, sospesi quattro ufficiali. In servizio allo Stato civile di Roseto, Castellalto, Pineto e Notaresco. L'inchiesta sulle residenze facili a brasiliani. L'accusa è falsità ideologica. Così ha deciso il giudice veneziano dopo le prime dieci ordinanze di divieto di dimora per i titolari delle agenzie di intermediazione. E poi processo Castrum. La finanza in comune a Giulianova. E poi Roseto degli Abruzzi, raffica di furti, il testimone. Ho visto i ladri in faccia. Adri, atri, scusate, danni da neve. Entro domani le domande per i contributi. Infine Val Vibrata, Martinsicuro, Tortoreto e Alba. A misura di bici. Questo è il riconoscimento che è andato ai tre comuni dell'area vibratiana. Prima di passare allo sport andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Candidato presidente, Forza Italia ci riprova. Gli azzurri abruzzesi vanno a Roma e chiedono a Berlusconi di portare sul tavolo con Meloni e Salvini la loro richiesta. Ma abbiamo ascoltato la reazione di Giandonato Morra che ha polemizzato proprio dopo la cena dei forzisti con Berlusconi. Intanto in fondo pagina si parla di Cronaca. Dipendente della Teramo Ambiente accoltella un uomo in strada. È accaduto a Termoli. Cittadinanza ai brasiliani. Sospesi quattro dipendenti degli uffici Anagarfe. Il giudice risparmio e invece altri otto vigili urbani indagati e interrogati nell'inchiesta sui permessi facili. Proseguiamo. L'Isis a casa nostra. Il terrorista era pronto per un attacco suicida. La polizia indaga tra le sue conoscenze negli ambienti di Colonnella e Alba. E poi. La provincia felice non è immune dal pericolo radicalizzazione. Gianni di Giacomo Antonio spiega perché un posto come Teramo sia ideale per i terroristi che cercano l'invisibilità. Il Sam da addetto alle pulizie i guai per droga in ospedale. La polizia ha ricostruito passo per passo la sua trasformazione in militante radicale. Grandi manovre a Teramo in vista per le superiori. Lo scientifico Einstein andrà al Comin Viale Bovio. Il Pascal Comiforti al polo tecnico di via San Marino. E poi i vertici del Ruzzo chiedono di essere interrogati. L'acqua del Gran Sasso, Forlini e Napolitani attesi in procura la prossima settimana. Un altro riconoscimento per Movetail, progetto di mobilità ciclabile dell'Adsu premiato alla triennale di Milano. E per quanto riguarda la salute, tour del respiro domani in Piazza Martiri, sempre a Teramo. Ci sarà anche Elvis ai funerali di Tommi. Oggi a Piazza Garibaldi ci saranno i funerali del 38enne Ottico, vittima di un incidente mortale alle Canarie. Farmacie in prima linea contro la violenza sulle donne. È stato presentato il progetto Artemisia. Sabato sera il Duomo si tingerà di rosso per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che è programmata per il 25 novembre. Bracco chiede a Speca di rinunciare ai compensi il consigliere regionale di Sinistra Italiana del benvenuto al nuovo segretario cittadino del Partito Democratico. Sensori escalatori per il benessere degli alberi. Siamo ancora a Teramo, in Viale Bovio, alla Villa Comunale. I test dell'Ordine degli Agronomi e dell'Istituto Agrario Rozzi per verificare lo stato di salute degli alberi. Politica zuffa inconcludente sul regolamento di Polizia Rurale. La minoranza compatta abbandona la seduta accusando la maggioranza di copia e incolla. Proseguiamo. La pagina della provincia. BCC Gran Sasso entra nella Cassa Centrale. La decisione è arrivata durante l'assemblea dei soci di sabato alla Corte dei Tini di Villa Vomano. E poi, poste italiane, incremento del 30% delle consegne, 194 mila in soli nove mesi, e-commerce in crescita nella provincia di Teramo. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Partita di calcio per ricordare Gervasio, il 22enne morto domenica scorsa nello schianto sul lungomare a Tortoreto. E poi, l'azienda MIV della Val Vibrata è stata premiata al Salone della Moto di Milano. E poi andiamo nella parte bassa della pagina. Contro guerra, solidarietà per i lavoratori in sciopero della Vicoppa. Anche la consigliera di parità provinciale si schiera con i dipendenti. E a Colonnella, panchina rossa contro la violenza sulle donne, in vista proprio della giornata internazionale del 25 novembre. Un patto per salvare Giulianova Arboretti, chiama a raccolta i cittadini con Tarquini e Giampaolo. Testimonial Tarquini, campione del mondo, ha 56 anni, e Giampaolo, tecnico di Serie A, tecnico allenatore della Sampdoria. Avviso pubblico, pasti gratuiti nelle mense per le famiglie in difficoltà a Giulianova. E sempre a Giulianova, terra e mare, due regate veliche per concludere gli eventi nel Porto Giuliese. Un albero nel cortile, in ricordo di Ester Pasqualoni. Oggi a Giulianova, l'incontro della Commissione Pari Opportunità con gli studi della Bindi. Verrà ricordata la dottoressa Ester Pasqualoni, scomparsa in seguito ad un omicidio, proprio nei pressi dell'ospedale di Sant'Omero, dove lavorava. Siamo alla pagina di Roseto, Pineto, Ati e Silvi. Mancate promesse per il tennis ducale, niente fondi per gli impianti di Atri. E poi Roseto, Autoporto. Roseto vuole allargare la ZES, zona economica speciale. Durante l'incontro in Regione, chieste agevolazioni anche per le zone limitrofe. E sempre a Roseto, oggi a Villa Paris, il convegno sulla tutela dei dati. L'incontro con gli esperti, grazie all'iniziativa del club satellite Roseto Vallevomano. La guerra sul sociale, l'errore è stato non aderire all'Unione. L'ex assessore Recchiuti è critico sul peccato originale, ma tiene aperta la porta alla collaborazione. Sempre Roseto, consegnate le chiavi dell'ufficio turistico alla Proloco. Ieri mattina il passaggio di consegna dei locali nelle mani del presidente Sant'Icchia. Siamo alla pagina della cultura che, disegnatore da Gran Premio, la Ferrari di Di Giandomenico accompagna la rossa nella gara di Abu Dhabi. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Lo possiamo fare partendo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport, il Black Free Day del mercato. Scatta l'ora delle offerte, 50 affari in saldo per evitare la bagarre di gennaio. In alto la Serie B, Palermo, questa sera a Verona. Il club intanto è stato ceduto agli inglesi. Poi vediamo in basso, Juve sette vittorie per un anno record, toccando i 103 punti. E un Inter all'angolo, a più corner di tutti. Nessuno diventa gol. E poi il governatore Toti, Genoa, ha bisogno di un grande derby. Proprio parla il governatore della regione Liguria. Alla vigilia del derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria. Corriere dello Sport, Inter. Modric si libera. Anticipazione dalla Spagna. E poi peso double. Milan-Higuain, doppio mal di pancia. Primi segnali di insofferenza del Pipita, il cui riscatto ora in dubbio. Deciderà Grazidis. Possibile che lasci cadere il diritto per ridiscutere la cifra. La squadra squalifica Gonzalo oggi a Roma per chiedere lo sconto. Tutto Sport. Tre Mendes nel vertice con il potente agente di Ronaldo. I dirigenti della Juve non hanno parlato solo di Ruben Neves per gennaio. De Gea e James Rodriguez. I possibili affari estivi della vecchia signora. Siamo alle pagine dello Sport del Centro. Partiamo dalle pagine di Sport Nazionale. Inter, operazione rilancio, ma c'è l'allarme in difesa. Dopo Versalico si ferma anche d'Albert Spalletti con il dubbio Icardi. E poi Tennis. Francia-Croazia finale anche nella Coppa Davis. Da oggi l'ultimo atto della manifestazione di Tennis che dall'anno prossimo cambierà format. Il libro dello svedese. Scusate, io sono il calcio. Tutto Ibra. Aneddoti e curiosità della carriera. La Juve Capello era il mio incubo. Esce il libro autobiografico di Zlatan Ibrahimović vicino al Milan. E intanto superclassico in Argentina. Biglietti a 1600 euro verso la finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Junior. Siamo alla pagina che riguarda il Pescara. Pescara secondo in classifica la vigia del derby con Lascoli. Cento volte del grosso. Senza l'anno smetto. 99 le gare in B per il terzino Giuliese. Che sfida Lascoli da ex. Anche Monachello sfida il suo passato. Se segno esulto, ha detto l'attaccante. Ma in casa Bianca Azzurra c'è apprezzione per le condizioni di Campagnaro. Vedete il titolo nella parte bassa della pagina. Campagnaro si ferma e rischia il forfè. Il suo eventuale recupero è affidato ai prossimi due giorni. Ma noi andiamo ad ascoltare proprio le parole di Monachello, uno dei grandi ex di Pescara Ascoli. Sì, sicuramente sarebbe bello segnare all'Adriatico. Ho fatto sempre gol in trasferta. Però se non le avessi lette stamattina in questi giorni queste cose non ci avevo pensato. Perché alla fine o segnare in casa o in trasferta l'importante è raccogliere punti. Lo dico proprio con sincerità perché magari anche l'anno scorso avevo segnato più fuori casa che in casa. L'importante è raccogliere punti e magari quei gol devono essere decisivi. Però sarebbe pure bello perché almeno i tifosi sono più presenti qua in casa rispetto che fuori. Però aspettiamo senza ansia, senza l'assillo del gol. Perché la cosa fondamentale è cercare di vincere la partita come per esempio la partita col Foggi. Non l'avevo segnata, però avevo fatto 90 minuti. Avevamo fatto una grande partita, era soffrendo, ma avevamo vinto. Quindi sono quelle le cose più importanti se vuoi fare in un'annata positiva. Per quanto riguarda l'anno scorso i mesi a Ascoli, sì, sono stato bene. Perché mi hanno concesso di riprendermi perché a Palermo ero stato male. Ho dei ricordi bellissimi, però io lotto sempre adesso per la maglia che indosso. Come quando ero a Palermo, lottavo per il Palermo. Ad Ascoli ho detto tutto me stesso perché siamo pagati per questo. Io voglio rispettare quelle persone che credono in me. E quindi adesso sono a pescare. Voglio rispettare tutto il presente che ha creduto in me, la società, il mister. Quindi darò sempre tutto per cercare di fare il più possibile. Tutti vorremmo giocare sempre dal primo minuto. Il mister ha una rosa competitiva, abbiamo una squadra forte, abbiamo tanti stenni, abbiamo tanti attaccanti. C'è anche Manguso, Maros che stanno facendo bene, anche Mirko. Quindi la concorrenza è ampia. Però il mister farà le sue scelte, qualsiasi siano le sue scelte. Io le accetto come sempre, non mi sono mai lamentato perché qualora venissi chiamato in causa ero tutto me stesso per far sì che magari il mister si ricreda o mi faccia giocare di più. Però sono contento perché alla fine sono riuscito anche a fare tre gol. Ho giocato dall'inizio quattro partite e poi sono subentrato quattro, cinque volte. Quindi io sono soddisfatto. Monachello che potrebbe scendere in campo dall'inizio. L'escluso in attacco dovrebbe essere Antonucci con Pilon che dovrebbe schierare nel 4-3-3 in avanti, da destra verso sinistra, proprio Maras, Monachello e Mancuso. Parliamo del Teramo, nuova vita, bacio Terracino, imparo da seconda punta, all'esterno d'attacco del Teramo, dice devo assimilare nuovi movimenti. Calcio violento, arbitro aggredito, atleta squalificato per due anni e mezzo. E poi a Pescara, gli assoluti elite di Pugilato 2018, al Mantone è presentata la manifestazione. Il basket, la Marcordi Fulz, Roseto per me sarà la partita del cuore. A Imola c'è anche il dirigente Rosetano Petrilli. Palla a volo, ad Ortona, Dolfo e Samantha. More sotto la rete a suonne di schiacciate. Lui è uno dei punti di forza della Sieco, impavida, che gioca in Serie A2. La moglie americana gioca nel Volley Junior in Serie C. Siamo alle pagine dello sport del messaggero. Pescara, la carica la suonano in tre, Pilon contro Lascoli. Lo dicevamo qualche istante fa, pensa all'attacco con Mancuso. Marras e Monachello. Memushaice, Balzano prova a vincere la Lombalgia, ma come detto, a prensione per le condizioni di Campagnaro. Calcio a 5, Acqua e Sapone, questa sera in campo nella massima serie di Calcio a 5 per superare eboli e dimenticare la delusione in Champions League. Siamo alla seconda pagina di sport. Teramo perde Caidi per due settimane, infortunato il difensore. Basket, Roseto Scerro, del più utilizzato. E poi Calcio a 5, Rocchigiani, Mambella e Gargantini in under. Due sono del Civitella, l'altro della Tombesi, anticamera della Nazionale. Andiamo a vedere per chiudere lo sport sul quotidiano La Città. Caidi che tegola, ritroviamo anche sulla città la notizia dell'infortunio di Caidi. Out per le due sfide in casa, rientro non prima della trasferta di Vicenza. Diavolo con la Giana per difendere l'imbattibilità interna. E poi in basso parliamo anche di basket in carrozzina. Micacci Giulianova col paccio nell'anticipo sardo. Gestione della gara e dimostrazione di forza contro la temibile Porto Torres. Giuliesi a quota 6 in classifica. Giuliesi che sono passati in casa dei Sardi per 77 a 56. E siamo giunti al termine, così dell'appuntamento odierno con Mattino 6 di venerdì 23 novembre. Mattino 6 che tornerà come sempre domani, puntuale alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Loris Bennato e Claudio Di Giacomo in regia. Vi do appuntamento per quanto concerne l'informazione della nostra rete, come sempre alle 14, per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.